Un nuovo metodo per il ringiovanimento radicale dell'organismo e un sostanziale prolungamento della vita dei mammiferi e dell'uomo. Il prolungamento della durata della vita è una questione che interessa tutte le epoche e tutti i popoli. Con il processo evolutivo, questo problema compare proprio per l'uomo. Essendo consapevole dell'immortalità della natura attraverso la moltiplicazione degli organismi mortali e possedendo l'istinto di autoconservazione e sopravvivenza, l'uomo ha sempre mirato a risolvere la contraddizione tra la vita e la morte. In tutte le epoche è comparso un sempre maggiore interesse verso i farmaci per la preservazione della giovinezza, della salute e per il raggiungimento di una maggiore longevità per l'uomo. Ricerche su tali farmaci sono state condotte nell'antica Cina, in India, in Grecia, in Egitto e nelle grandi civiltà dell'America centrale e meridionale. Le tracce delle ricerche si perdono nelle profondità dei secoli e risalgono alla storia più antica. Il più antico manoscritto di medicina cinese, Nei Kine, contiene varie considerazioni in merito all'invecchiamento. Nei manoscritti degli alchimisti medievali è possibile trovare descrizioni di farmaci per ottenere il ringiovanimento e l'immortalità. La longevità dell'uomo, così come viene citata nei libri antichi, è evidentemente esagerata, poiché le prove archeologiche indicano che gli antichi non vivevano più a lungo dell'uomo moderno. Il limite dell'aspettativa di vita della specie non è stato superato. A partire dalla fine del XIX secolo, sono stati intrapresi studi sistematici per l'estensione della vita di mammiferi umani. Nell'arco di un secolo è stata raccolta un'enorme quantità di materiale sulla biologia dell'invecchiamento, la soluzione al problema principale che la gerontologia si pone. Al prolungamento della vita è stato dedicato un numero significativo di interventi, in cui troviamo l'analisi dell'influenza di vari fattori sull'aspettativa di vita di esseri umani e animali. Il maggior contributo all'aumento dell'aspettativa di vita media della popolazione di alcuni paesi è stato determinato da fattori sociali, da condizioni ambientali e dai progressi del settore medico, i quali non sono correlati al rallentamento dell'invecchiamento in quanto tale. Questi fattori hanno permesso un avvicinamento estremo al limite biologico dell'aspettativa di vita che è stato quasi raggiunto in Giappone e in un certo numero di altri paesi sviluppati. L'impiego di farmaci geriatrici è volto a prevenire molte delle malattie che accompagnano l'invecchiamento. Alcuni scienziati ritengono che, a fronte di un costo enorme, la cura delle principali malattie dell'età avanzata permetterà di prolungare la vita dell'uomo di circa 10 anni. Di conseguenza, l'umanità ha sostanzialmente esaurito la possibilità di aumentare l'aspettativa di vita tramite i tradizionali interventi di tipo medico, e il problema fondamentale diventa quindi quello relativo allo sviluppo di strumenti e farmaci che abbiano un impatto radicale sul processo di invecchiamento stesso. Esiste una varietà di farmaci noti per l'aumento dell'aspettativa di vita media di animali ed esseri umani. Al contempo, l'aspettativa di vita massima non aumenta, dimostrando che tali farmaci sono volti a una correzione degli effetti patologici dell'invecchiamento, ma non agiscono sui processi fondamentali dell'invecchiamento in quanto tali. In molti esperimenti sul prolungamento della vita sono state impiegate varie specie di animali da laboratorio dalla ridotta aspettativa di vita, con malattie ereditarie note. Laddove il rimedio si rivela efficace per tali malattie, l'aspettativa di vita media degli animali aumenta senza però influenzare il processo di invecchiamento. Altri interventi dimostrano segni di ringiovanimento di esseri umani e animali, mentre aumenta al contempo anche l'aspettativa di vita massima. Un'analisi esperta dello stato attuale e delle prospettive per lo sviluppo della ricerca gerontologica presentata da 49 fra i gerontologi più noti al mondo all'inizio del 2016, ha dimostrato che la maggior parte degli esperti considera l'aumento dell'aspettativa di vita massima dell'uomo come un obiettivo raggiungibile nel prossimo futuro. Attualmente sono in fase di esame vari metodi, mezzi e sistemi per il prolungamento della vita. In base alla loro efficacia sul processo di invecchiamento, questi metodi e farmaci possono essere divisi in due gruppi. Quelli volti all'aumento dell'aspettativa di vita media e di quella massima, e quelli volti al solo aumento dell'aspettativa di vita media. Il gruppo che attira un maggiore interesse è il primo. Gli interventi applicati sono di diversa natura, fisici, chimici e altri. Spenderemo ora alcune parole su quei farmaci e metodi di ringiovanimento noti ma, come la pratica ha dimostrato, inefficaci. L'applicazione degli antiossidanti si fonda sul loro legame con i radicali liberi, molecole reattive con un elettrone spaiato che si manifestano nel processo metabolico, la cui incidenza aumenta con l'età. Ipotesi di Arman Questi radicali, danneggiando le molecole ad alto peso molecolare di cromatina, DNA, RNA, collagene e altre proteine e causando perossidazione lipidica delle membrane cellulari, possono interferire con il processo metabolico dell'organismo. I mammiferi dispongono di un potente sistema antiossidante che regola l'attività dei radicali liberi. Tuttavia, l'efficacia di questo sistema diminuisce con l'età. Gli antiossidanti più efficaci, la cisteamina, con un aumento dell'aspettativa di vita del 26%, e il butylidrossitoulene, con un prolungamento pari al 45%, principalmente grazie al rallentamento dello sviluppo di tumori, non hanno comportato un aumento dell'aspettativa di vita massima degli animali. Nella somministrazione di questi antiossidanti a topi di specie longeve e resistenti alla malattia, non si è osservato alcun prolungamento della vita. Si è concluso che gli antiossidanti non rallentano il processo di invecchiamento. Un'analisi dei dati raccolti durante lo studio degli antiossidanti suggerisce che è impossibile ottenere un significativo rallentamento dell'invecchiamento e un aumento dell'aspettativa di vita massima tramite l'impiego degli antiossidanti. Tuttavia, molti di questi costituiscono farmaci ufficiali, e la loro efficacia è riconosciuta per il trattamento di varie malattie, per garantire il normale funzionamento dell'organismo e per promuovere la salute. Pertanto, l'uso di antiossidanti è giustificato anche per l'aumento dell'aspettativa di vita media dell'individuo. La tirogeni L'ipotesi di Bjorksten mette in relazione l'invecchiamento e la formazione di legami incrociati all'interno delle molecole del DNA, di collagene e altre proteine mediante legami covalenti e a idrogeno. Bjorksten ha individuato un enzima batterico che distrugge tali legami incrociati. La somministrazione dell'enzima ai topi ha dimostrato un aumento della loro aspettativa di vita media, permettendo, secondo l'autore, il rallentamento del processo di invecchiamento. In seguito è stato individuato un gruppo di sostanze, i latirogeni, che interferiscono con la formazione dei legami incrociati, in particolare delle molecole di collagene del tessuto connettivo, penicillamina, semicarbazide, amminoproprio nitrile e altri. In esperimenti su ratti, topi e altri animali, è stato ora dimostrato che i latirogeni, pur inibendo la formazione di legami incrociati, non influenzano sostanzialmente la durata di vita massima degli animali. Adattogeni Si tratta di ricostituenti che aumentano la capacità adattiva e la resistenza dell'organismo a vari fattori. Per questi scopi e per il rallentamento dei processi di invecchiamento, vengono spesso somministrati infusi ed estratti vegetali. Ginseng Eleuterococco Radiola Olopanax Leuzea cartamoides Aralia e Pantocrin Tuttavia, il loro impiego è limitato, poiché la maggior parte degli adattogeni è controindicata in caso di ipertensione e di altre patologie tipiche dell'età avanzata. La grande attenzione rivolta verso queste e alcune altre piante, euforbia, rododendron, adamsea, gastrodia elata e altri, come elisir di lunga vita, si spiega nella gran parte dei casi con l'effetto cosmetico o stimolante sui singoli processi nell'organismo. Gli esperimenti diretti indicano che solo un numero ridotto di adattogeni, estratti di ginseng, Eleuterococco, radice di liquirizia, ha dimostrato un aumento della durata media della vita dei ratti non superiore al 10%, sostanzialmente senza influire sull'aspettativa massima di vita. Biostimolanti Un certo numero di sieri citotossici appartiene al gruppo dei biostimolanti, i sieri antireticolare, antiovarico, antitesticolare e altri, impiegati in geriatria. Come farmaco per la prevenzione dell'invecchiamento, era particolarmente noto il siero antireticolare, creato nel 1943 da Schottaler, il quale individuava un collegamento fra l'invecchiamento dell'organismo e il deterioramento del tessuto connettivo. Il siero antireticolare ha un effetto positivo sul sistema del tessuto connettivo. Tuttavia, non esiste alcuna evidenza dell'effetto del siero antireticolare sull'aspettativa di vita dell'individuo. Farmaci immunotropici L'impiego di farmaci e metodi di questo tipo per rallentare l'invecchiamento si fonda sull'ipotesi per cui il processo di invecchiamento sarebbe legato al naturale indebolimento del sistema immunitario in età avanzata e, in particolar modo, all'involuzione del timo negli esseri umani e negli animali. Esistono evidenze a dimostrazione del fatto che le sostanze ormonali del timo, fattore umorale del timo, timopoietina, timosina e altri, così come l'interleuchina 2, il metisoprinolo, l'imucital, l'azatioprina, un immunosoppressore, il timex e il timalin, estratti del timo, e altre, contribuiscono a rallentare l'involuzione del timo. Dimostrano un effetto regolarizzante sulla funzione di diversi sistemi. Prevengono la formazione di tumori e stimolano le difese dell'organismo, senza dimostrare, tuttavia, un effetto significativo sull'aspettativa di vita. Ormoni Lo studio dell'influenza che gli ormoni esercitano sulla durata della vita è associato all'importante ruolo dei meccanismi di regolazione neuroendocrina nel processo di invecchiamento. È stato dimostrato che la somministrazione di testosterone riduce l'aspettativa di vita delle femmine e, in particolare, dei maschi della classe dei mammiferi. È stato dimostrato un certo prolungamento della vita degli animali in seguito a somministrazione di estradiolo, ossitocina, vasopressina e glucocorticoidi. Si è osservato che il deidroespiandrosterone, somministrato in grandi dosi ai topi, ha dimostrato un effetto ringiovanente. Tuttavia, questo ormone in dosi elevate provoca negli esseri umani una serie di effetti collaterali. Farmaci ad azione sul sistema genetico Nella letteratura gerontologica mondiale, circa la metà delle opere sono dedicate allo studio della genetica dell'invecchiamento. Per ritardare il ritmo di attuazione del programma genetico e ridurre la sintesi delle proteine, possibili iniziatori dell'invecchiamento, sono stati testati numerosi inibitori della trascrizione e della traslazione. Actinomicina D, olivomicina, cicloesamide e altri. L'effetto maggiore è stato ottenuto con la somministrazione di olivomicina ai ratti. La durata media della vita è aumentata del 15,4%. I tentativi di stimolazione dell'attività del genoma dell'invecchiamento con l'aiuto di farmaci RNA e DNA non hanno prodotto risultati significativi in termini di prolungamento della vita. Vitamine e microelementi In geriatria, per il rallentamento dei cambiamenti legati all'invecchiamento, vengono impiegate vitamine e complessi vitaminici. L'efficacia delle vitamine è stata studiata anche nel campo del prolungamento della vita. La vitamina E non ha dimostrato alcuna influenza sulla durata della vita di topi di varie specie. Sakamoto Secondo l'esperienza di Massey, l'azione della vitamina C in dosi elevate sui topi dimostra un aumento della durata media della vita pari al 10%, senza però mostrare alcuna influenza sull'aspettativa di vita massima. L'autore giunge alla conclusione che la vitamina C non è in grado di prolungare in modo significativo la durata della vita umana. Restrizioni dell'alimentazione I primi esperimenti sistematici sui mammiferi furono condotti da Osborne. I test condotti sui ratti hanno rivelato che una limitazione delle calorie nell'ordine del 20-30% all'interno della dieta determina un aumento della durata della vita degli animali. Negli anni dal 1930 al 1943, studi intensivi sono stati condotti dal gruppo di McKay e in seguito Ross, Burroughs, Freeman ed Everett. In alcuni test è stato descritto un aumento della durata della vita del 20-40% sotto l'influenza di varie condizioni di limitazione all'alimentazione, nonché di limitazione all'interno della dieta di un amminoacido triptofano. L'effetto maggiore di prolungamento della vita si è raggiunto in quegli esperimenti in cui le somministrazioni venivano iniziate in età precoce. Nonostante ciò, le restrizioni all'alimentazione in soggetti di età avanzata non hanno prodotto effetti significativi. Agopuntura Con la desincronizzazione dei bioritmi legata all'avanzare dell'età, si presenta un abbassamento dell'attività elettrica dei punti di agopuntura. È possibile normalizzare l'andamento dei bioritmi agendo sul sistema dei punti e dei canali di agopuntura di un individuo. È noto che un'azione in alcuni punti permette di aumentare in maniera considerevole l'energia dell'organismo. Il punto di Zhu Sanli è considerato il punto delle 100 malattie. L'azione su questo punto produce un effetto normalizzante, regolarizzante e tonificante sull'organismo. Il punto, come conferma la medicina popolare cinese, viene da lungo tempo impiegato nel campo del prolungamento della vita. È noto inoltre il trattamento curativo, in cui si esegue il massaggio delle zone attive dal punto di vista biologico, azionando il punto E36 di Zhu Sanli. Simili stimolazioni attivano il sistema ipotalamo-formazione reticolare-corpo-amigdaloideo. In seguito a questa attivazione sugli individui si registrano un rallentamento dei processi dell'invecchiamento, un miglioramento del metabolismo tessutale e cellulare e della risposta immunitaria. L'efficacia di questo metodo in merito all'aumento della durata della vita non è nota. I fattori fisici appaiono più efficaci in termini di ringiovanimento dell'organismo. Campi elettromagnetici È stato dimostrato che sotto l'influenza di un campo elettrostatico di carica negativa a bassa intensità, la durata media della vita dei topi aumenta del 12%. Turnbull ha studiato l'effetto del campo elettrostatico con intensità di 15 kV al metro sui topi maschi della specie CBA. Nella durata media della vita degli animali sottoposti al campo di carica negativa si è registrato un aumento pari all'11% e nella durata massima della vita del 13% in più rispetto a quella degli esemplari di controllo. Tuttavia, i topi CBA presentano un'elevata frequenza di insorgenza di tumori. Inoltre, nel corso dell'esperimento, la durata massima della vita non ha superato il limite della specie, mentre l'effetto è stato ottenuto a carico di una riduzione della frequenza dello sviluppo di tumori sotto l'influenza del campo elettrostatico di carica negativa. Dal 1939 ai giorni nostri sono state realizzate varie ricerche sperimentali, le quali dimostrano l'influenza degli impulsi magnetici del campo di frequenza di 4-7 Hz sulla durata della vita e sulla sopravvivenza di varie specie animali. Negli esperimenti di Van Dyck e Halpern si è potuta osservare una riduzione della vita di ratti e topi con l'influenza del polo nord. Inoltre, è stato dimostrato che il flusso magnetico del polo sud ha effetti eccitanti, vivificanti in tutti gli esseri viventi. L'aumento della durata media della vita dei topi è stato pari al 38%, mentre l'aspettativa di vita massima è stata del 40% superiore rispetto a quella del gruppo di controllo. Inoltre, il campo magnetico con impulso ad alta frequenza di frequenza superiore ai 20 GHz e intensità di 100 mT ha dimostrato una significativa e più pronunciata influenza sulla durata della vita di ratti e scimmie. Becker Un metodo relativamente nuovo e particolarmente efficace è rappresentato dall'impiego dei campi torsionali per il ringiovanimento dei mammiferi e degli esseri umani. Uno dei maggiori effetti del campo torsionale è quello dimostrato nei test condotti da Schmidt su ratti di età avanzata, compresa tra i 24 e i 27 mesi, si è applicato l'effetto di un campo torsionale con polarizzazione destra e una frequenza di 40 GHz. L'obiettivo dell'esperimento consisteva in un aumento negli animali della reazione adattativa di attivazione. Dopo una o due settimane dall'inizio dell'esperimento, gli animali hanno iniziato a mostrare segni di ringiovanimento, mentre dopo 4-5 mesi le cavie a un occhio esterno erano distinguibili dagli esemplari giovani solamente per la taglia. Apparivano più attivi. Il pelo giallo, rado e ruvido appariva bianco, soffice e consistente. La giallognola sclera dell'occhio era diventata di un rosa chiaro. La pelle, da ruvida e spessa, appariva morbida ed elastica. Il timo era ingrandito. Il ciclo riproduttivo regolarizzato. L'effetto si è dimostrato resistente e duraturo. Una serie di ricercatori, McLean-Walters-Hobart, ha determinato che la polarizzazione destra del campo torsionale ha contribuito a un significativo aumento, anche di varie volte, della durata della vita di topi, ratti e altre specie animali. Analogamente, la polarizzazione sinistra ha determinato effetti dannosi. Questi esperimenti rappresentano una fonte di enorme interesse per lo studio delle possibilità di impiego del campo torsionale come strumento di prolungamento della vita degli individui. Abbiamo condotto uno studio sull'impatto del campo torsionale su 12 volontarie di sesso femminile di età compresa tra i 51 e i 58 anni. Tutte le donne si trovavano nel periodo post-menopausale. Tutte dichiaravano l'accessazione completa del ciclo mestruale da più di due anni. Per l'effetto del campo torsionale modulato è stata impiegata l'attrezzatura sperimentale Metatron Z100 con un generatore di torsione ad alta frequenza con una frequenza di generazione del campo di 100 GHz con la possibilità di modulazione a microimpulsi a bassa frequenza 250 Hz del segnale e la possibilità di applicare all'organismo un campo torsionale a polarizzazione destra o sinistra in base al principio protettore-distruttore. Il campo torsionale polarizzato a destra è stato applicato all'organismo delle donne durante l'intero esperimento, 12 mesi, una volta alla settimana per un'esposizione di 10 minuti. Dopo 5-8 mesi dall'inizio dell'applicazione del campo torsionale le donne hanno mostrato i primi segni di ringiovanimento. Soggettivamente tutte le donne hanno notato un miglioramento della salute, della memoria la scomparsa di sintomi depressivi una diminuzione del nervosismo un miglioramento del sonno. Da un punto di vista oggettivo in tutte le donne il livello di estrogeni è aumentato in media di 2,2 volte rispetto a quello iniziale. Tutte le donne senza eccezione hanno aumentato il tono muscolare migliorato l'elasticità della pelle recuperato il tono muscolare ed eliminato le rughe. 9 donne hanno riferito inoltre un miglioramento della vista. 7 donne hanno dichiarato la totale scomparsa del dolore lungo la colonna vertebrale nella parte bassa della schiena sia in posizione eretta che in movimento così come il dolore alle articolazioni manifestate in precedenza. 6 donne hanno manifestato il recupero del ciclo mestruale. In tutte e 6 le donne si è osservato il recupero completo di tutte le fasi del ciclo riproduttivo con regolare sequenza e durata delle fasi. Generalizzando i dati ottenuti è possibile constatare uno spiccato effetto bioadattivo e anti-invecchiamento del campo torsionale modulato ad alta frequenza. È stato possibile fissare i meccanismi non specifici della sua azione sull'organismo femminile tramite lo studio di una serie di indicatori correlati del sangue compreso l'aumento dei globuli rossi e la riduzione, normalizzazione, del numero totale di globuli bianchi oltre all'aumento delle cellule immunitarie. Utilizzando la composizione multicellulare del sangue e analizzando gli indici di calcolo della reattività e della tossicità è stato possibile identificare la ricostruzione degli indicatori normativi dei processi di protezione e detossificazione nelle donne sottoposte all'influenza del campo torsionale. Come è noto, la regolazione endocrina rappresenta la forma più antica di gestione e con l'invecchiamento subisce una significativa involuzione. A tal proposito, il completo ripristino della regolazione ipotalamo-gonadotropica nelle donne anziane sotto l'influenza del campo torsionale è un risultato significativo. In questo modo, siamo riusciti a ottenere non solo un ringiovanimento metabolico ed esteriore delle donne, ma anche a ripristinarne la fertilità. Successivamente ai nostri studi, una delle donne, 54 anni, ha concepito e dato alla luce un bambino sano. Pertanto, l'analisi condotta sui vari approcci, farmaci e metodi per il prolungamento della durata della vita consente di indicare l'impatto sull'organismo umano di un campo torsionale con polarizzazione destra come uno degli approcci più promettenti per l'uomo e che, quindi, richiede ulteriori studi approfonditi.